Per Ponte Buriano significherebbe andare a finire sott'acqua, quindi distruggire duemila anni di storia. Non sono violenti ma arrabbiati sì gli abitanti di Ponte Buriano che per l'ennesima volta si sentono dire per ora sulla carta che il loro paese e il ponte della Gioconda potrebbero finire sott'acqua. L'ipotesi che sarebbe presa in considerazione solo in estrema razio è contenuta nel piano per la messa in sicurezza dell'Arno, firmato a Roma da Ministero, Regione Toscana e Comune di Firenze. Il primo progetto risale agli anni 90, era stato già ampiamente osteggiato ma non per un pontiglio degli abitanti di Ponte Buriano bensì per fondate ragioni tecniche in seguito alle quali nel febbraio del 98 venne sottoscritto dall'allora governatore Vannino Chiti un protocollo di intesa assieme a provincia e autorità di Pacino che scongiurava l'ipotesi. Si era arrivati a vedere che a Firenze l'indanziamento della riga alla penna poteva incidire per 3-400 m3 al secondo il che voleva dire la tollevanza del sistema che si erano dati, quindi praticamente un sacrificio che non guadagnava tanto. Erano previsti gli interventi ovviamente collaterali, non si alza la diga, si fanno dei scarichi di fondo adeguati, si ripuliscono i fanghi, i milioni di fanghi che ci sono e quindi con quelle soluzioni lì si arrivava appunto a definire il rischio dell'allora a Firenze a diminuire parecchio il rischio dell'allora a Firenze. Quindi non capisco questa alzata di testa o di scuri se si vuol dire perché personalmente non riesco a capire. Chi parla forse non ha letto gli atti che sono, siccome gli atti per chi li può vedere c'è il piano di Pacino che è alto, un bel mallop appena si tiene in mano, per cui se uno si mette a leggere troverà i riscontri che io prima dicevo, quindi l'estrema razio, non so cosa voglia dire estrema razio. Io ho letto in questi anni tantissimi protocolli di intervento letti che si facciano con gli intiosti indelebili una volta tanto, se no. E poi quello che trovo controproducente è che proprio la regione toscana nel dicembre dell'anno scorso, quindi pochi mesi fa, ha stanziato 700 milioni per il restauro, ovviamente dovuto, al ponte romanico di Ponte Puriano. La provincia è già stata al lavoro per mesi per fare tutti i rilievi, quindi butta giù il progetto, quindi si mette anche un po' d'accordo, via diciamo. Non siamo stati mai di violenti, mai forconi, mai trattori. Si era detto di incatenarsi al ponte con il dottor Mario Zuccherini. Grazie.